C'è una cosa importante, è stata fatta la votazione come sempre ogni anno della stampa accreditata, i 3.400 giornalisti che sono qui al festival e quasi all'unanimità con solo qualcuno che invece ha fatto una scelta diversa, ma capita di rado, ma in questo caso è capitato che tanto la votazione finale delle giurie popolari, delle giurie di qualità del grande festival, quanto quella della critica che è un premio a parte, sono finalmente d'accordo e si sono accordati e tutti e due sono concordi nel dire che la tua canzone è stata assolutamente la migliore e quella più apprezzata, quindi io ti consegno ed è un onore per me il premio della critica. Grazie, sono commosso e emozionato e vi ringrazio moltissimo perché è un onore incredibile, grazie. È una cosa meritata e complimenti sperando che la tua carriera vada avanti ancora seguendo questo successo. Grazie, bellissimo, poi sono i primi fiori che mi consegnano, che sai che me l'hanno tolti tutti, questi sono bellissimi, grazie. Complimenti ancora. Di nuovo, grazie.